cari amici di fano tv la più cordiale buonasera in questo spazio si torna a parlare di politica e allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti buonasera la dottoressa liliana gabrielli con la fano che vogliamo a sostegno della candidatura sindaco di stefano marchigiani buonasera e buonasera stefano marchigiani candidato sindaco con i progressisti per fano 2050 allora in questo spazio ci occuperemo interamente di sanità come mai ha preso questa decisione marchigiani io penso che è un tema che sfugge da un punto di vista della tecnica alle decisioni dell'amministrazione comunale in realtà sia pienamente coinvolgente delle politiche che un'amministrazione deve mettere al centro nel suo rapporto con la regione marche che detiene ovviamente questo questa delega di occuparsi per legge della sanità regionale e lo mettiamo al centro delle nostre preoccupazioni anche emblematicamente schierando quattro medici nella nostra lista tre dottoresse un dottore che ha gestito dottor dottori per altro nome nomen il pronto soccorso negli ultimi cinque anni della sua carriera di fano perché le competenze in questo campo così complicato credo che possano illuminare non solo le critiche perché il tema è molto complesso e non da oggi ma anche le proposte per cercare di restituire affano una serie di servizi che la città merita allora dottoressa nel nel vostro programma parlate del declino dell'ospedale di fano come si arriva a questo punto e come fare soprattutto per fermarlo e o invertirlo allora il declino dell'ospedale di fano data ormai da più di dieci anni da quando dopo la proposta dell'azienda marche nord si cominciò a fare l'unione funzionale dei due ospedali unione funzionale che però divenne rapidamente la fuoriuscita da fano degli specialisti di molte specialità chirurgiche a discapito quindi dell'ospedale di fano che vennero trasferiti a pesaro e questo perché perché si doveva fare l'ospedale unico ospedale unico che invece si sapeva che avrebbe avuto dei tempi di realizzazione molto lunghi e nel frattempo l'ospedale di fano con rimaste solo le specialità mediche avrebbe avuto un inevitabile declino accanto a questo però c'era come contraltare se così si può dire la iper funzionalità del pronto soccorso di fano che diversamente da quello di pesaro sembra quasi di fare una guerra fra poveri ma nel 2014 quindi in piena fusione fano pesaro accoglieva 20.000 20.000 persone in più l'anno rispetto al pronto soccorso di pesaro e questo non è piccola cosa perché se pesaro ha è una città di circa 100.000 abitanti grosso modo esaurisce il suo bacino di utenza in pesaro mentre fano che numericamente è inferiore ha però un bacino d'utenza che inizia con pergola e poi scende giù lungo la flaminia a fossombrone tutta la tutta la vallata per arrivare a fano perché fano è stato l'ospedale di grande tradizione che era con specialità chirurgiche di straordinaria efficacia dall'otorinolaringoiatria all'oculistica all'ortopedia diretta dal mio amato professore professor cormio e che quindi aveva ed ha una rinomanza che non è stato possibile annullare tant'è vero che tuttora nonostante l'ospedale di fano sia così impoverito e veda minacciata la sua sopravvivenza per molti versi continua ad avere nel 2023 un numero di ricoveri che sono di circa 10.000 di accoglienze che sono circa 10.000 volte superiori a quelle di pesaro e quindi cosa dobbiamo pensare dobbiamo pensare che sarebbe interessante proporre una sanità provinciale che sicuramente fa conto sui due ospedali che abbiano pari dignità perché se noi guardiamo la vicina Emilia Romagna sono stati bravissimi nel non uccidere nessun ospedale se pensiamo a quello che è stato la sinergia che si è creata fra Forlì e Cesena ci rendiamo immediatamente conto che se c'è un problema a Forlì l'equip di Cesena si sposta su Forlì quindi non partono gli ammalati con le ambulanze a centinaia di viaggi al giorno per non dire di quello che succede durante l'estate ma si muovono l'equip e si hanno le famose reti cliniche che fanno sì che le singole eccellenze possano vivere al meglio ognuna in una realtà ed essere più efficace invece al posto di potenziare reti cliniche e ricreare una sanità diffusa a livello provinciale hanno scelto di potenziare la sanità privata eravamo partiti con 40 posti letto a Chiaruccia non sono andati bene, siamo arrivati agli 80.000 a Pesaro quando? Per abbattere le liste d'attesa chirurgiche ma sarebbe bastato riaprire l'ortopedia di Fano che aveva 25 posti letto e che è stata l'unica ortopedia delle Marche ad essere chiusa e il primario attuale ha garantito a tutti i direttori generali che si sono succeduti la possibilità per lui di riaprire pari pari l'attività ortopedica in Fano perché? Perché ci sono delle sale operatorie bellissime, efficientissime che quindi sarebbero un valido supporto e scarico per quelle di Pesaro e questo vale un pochino per tutto e quindi cosa ci sembra inappropriato? Ci sembra inappropriato dedicare, potenziare nonostante io sia pergolese quindi non mi si potrà dire che mi batto contro pergola potenziare degli ospedali di zone disagiate che quindi debbono servire da punto di primo intervento fornendo loro equip chirurgiche e equip anestesiologiche non dimentichiamoci che sei anestesisti ci hanno lasciati quindi direi che dare a Fano solo la palazzina nuova per le emergenze e urgenze non è neanche incontentino è una offesa, una mortificazione che si rivolge soprattutto ai sanitari che con le unghie e con i denti non potendolo dire apertamente si stanno battendo per la sopravvivenza e la ripresa come merita dell'ospedale di Fano Dottoressa, che ne è dell'hospice pediatrico? Ecco, questa è un'altra presa in giro io sono molto schietta nel mio dire d'altro non avrei potuto fare il chirurgo se non fossi stata così cosa vuol dire aprire un hospice pediatrico? Vuol dire creare un'affettuosa vicinanza a queste creature così piccole così indifese, così tenere che magari debbono lasciare casa loro questo vale soprattutto per la vicina Umbria e Toscana che ci avrebbero volentieri demandato questo onore perché poi diventa un onore abbiamo gli spazi dell'ospedaletto oramai in disuso perché è una specie di magazzino e quindi questo sarebbe innanzitutto un dovere posso dire un solle incantiano no, un obbligo aiutare queste creature e aiutare le famiglie perché un bambino una persona anziana che sta male fa male un bambino che sta male è devastante Possiamo fare anche maggior chiarezza riguardo il centro Alzheimer? Sì Noi abbiamo allora va considerato che la vera emergenza e la gioia prima è l'invecchiamento della popolazione oramai si calcola che quasi uno su tre persone che superano i 75 anni abbia la alta possibilità appunto uno su tre di diventare portatore di una patologia come l'Alzheimer e quindi noi a Fano cosa abbiamo? Abbiamo il centro Margherita assolutamente adeguato ma per le demenze lievi e medio lievi perché è una situazione che funziona a 12 ore al giorno per sei giorni la settimana e poi il sabato solo quattro ore e quindi avere la possibilità di avere un centro Alzheimer per gravi e gravissimi cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che è un centro stanziale residenziale con le persone ricoverate quindi che funziona H24 7 giorni su 7 e questo è possibile se la struttura privata convenzionata è prima accreditata e quindi ha i requisiti per essere tale e poi convenzionata quindi la regione sostiene le spese la Carifano la fondazione Carifano straordinaria come sempre nel venire incontro alle esigenze della popolazione fanese ha messo a disposizione mette a disposizione la terra, il terreno come si può dire bene però ci vogliono accreditamenti ci vogliono convenzioni ci vogliono denari altri per creare per bene la questione quindi è una situazione direi di cui vedo una difficile soluzione in tempi brevi confesso mentre invece farebbe veramente 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 comodo Non è prevista una casa della comunità come mai? Ecco questa è un'altra delle note dolenti della sanità fanese perché ci spetterebbe sicuramente per numero di abitanti 50.000 e perché una casa della comunità è una straordinaria struttura polivalente che permette di accogliere persone che lasciano l'ospedale o che possono non andare nell'ospedale e che ha a disposizione tutto un insieme di personale medico paramedico di diverse competenze dal pediatra al geriatra che scaricano l'ospedale e permettono al paziente non ancora stabilizzato o che ha un dubbio diagnostico da chiarire di essere trattato in quell'ambiente e quindi di essere assolutamente posto in una situazione adeguata che cosa provvede il suo programma in merito alla riduzione delle liste d'attesa questo è una cosa che mi interessa molto nel mio piccolo continuo a fare il medico ospedaliero per abbattere una infinitesimamente piccola parte delle liste d'attesa avevamo calcolato che c'erano erano circa 98 milioni da fare e questo se pensiamo per esempio che a Fano la lista d'attesa per una visita diabetologica è di un anno non è un anno ma se pensiamo che un diabete ben seguito costa al massimo 800 mila euro l'anno mentre un diabete scompensato perché trascurato può arrivare fino a 36 mila euro l'anno capiamo che non è solo una questione etica perché il nostro dovere è curare ma è anche una questione banalmente economica c'è poi la questione delle liste d'attesa degli screening oncologici va considerato e ricordato che il capitolo spesa oncologica è pari a circa il 20% della spesa medica e quindi capiamo bene che anche qui è ancora di più un conto è trattare un paziente in questo modo in tempi brevi rapidamente un conto è trovarcelo in una situazione seria grave compromessa sempre per lui e per la famiglia che lo segue istituzione dei cao che cosa possiamo dire il cao è una nuova creatura che è nata in romagna come qua spesso succede e come dice l'acronimo è il centro di assistenza centri di assistenza a urgenza e che si pone quasi come un pre-pronto soccorso spesso nei locali del pronto soccorso e serve a scaricare di tutte quelle infinite nell'ambito del pronto soccorso infinite liste verdi liste bianche che sono le visite che vanno al pronto soccorso perché non trovano purtroppo udienza vista la scarsità anche dei medici di base e i problemi delle liste d'attesa che poi si riverberano i mancati controlli siamo quasi in chiusura di questo spazio Marchegiani sì io penso che questa trasmissione dia il senso dell'importanza che attribuiamo alla salute pubblica noi siamo per difendere estremamente questo diritto costituzionale è un argomento che merita competenze perché troppo si è sbagliato fin qui non dico in mala fede ma di fatto alcuni obiettivi non sono stati centrati e quindi il tempo non ce n'è più non ce n'è più dobbiamo mettere in conto che per avere un nuovo parco medici ci vorranno almeno quattro anni e quindi oggi paghiamo costi incommensurabili rispetto alle prestazioni una notte può costare 1500 euro per un medico quindi siamo arrivati a un punto dove grandi errori sono stati fatti adesso lo compito della politica qual è però di mettere in campo un progetto di farsi sentire dalla regione Fanon ha fatto secondo me sentire la sua voce negli ultimi quattro anni che sono i quattro anni di governo del centrodestra che legittimamente ha vinto le elezioni con un altro progetto un progetto molto ambizioso un progetto di cui non si tengono i costi perché nessuno ha la bacchetta magica e disseminare il territorio di ospedali eccellenti è una gara che sapevamo già non poter andare avanti noi cosa diciamo ma lo dicono i medici e noi siamo qui anche su stimolo di tanto personale medico e paramedio che ci ha contattato con grande dignità che vuole significare la preoccupazione la stanchezza di tenere in piedi una struttura quella di Fano che è un mezzo ospedale dove però è rimasta della medicina di eccellenza dove c'è ovviamente rianimazione che potrebbe consentire di usare quelle magnifiche sale operatorie con equip che mobili in modo tale che non sono malati a muoversi con le ambulanze anche sulle ambulanze abbiamo detto qualcosa ultimamente purtroppo c'è stata una conferma di questo allarme che abbiamo lanciato sollecitati anche da chi fa quel lavoro perché giorni fa il nostro concittadino è rimasto sdraiato 30 minuti sull'asfalto perché la nostra ambulanza era fuori ed è arrivata un'ambulanza da Pesaro quindi che si sta recuperando un nuovo ospedale per Pesaro un nuovo ospedale a Cagli un ottimo ospedale a Pergola Fossombrone avrà le sue cure la terza società delle Marche che assolve servizi come è stato dimostrato ancora più grandi più numerosi di Pesaro ma non volesse una concorrenza questo non ha di fatto una chirurgia vera quando potrebbe averla e quindi noi chiediamo intanto un'armonizzazione di questi servizi per eliminare il disagio sia di chi deve curare sia di chi è ammalato e credo che questo si possa fare noi vogliamo che in questa città ci sia un ospedale di primo livello con tutte le specialità beh vediamo se alcune possono coabitare con Pesaro siamo anche per un condominio certo non capisco quello che dice il collega essere Filippi ogni volta che parliamo specialità di primo e secondo livello non so a quale secondo livello si possa riferire e lo invito già da stasera di fare chiarezza nei prossimi dibattiti di queste ore però voglio dire un ospedale di primo livello una casa della salute perché superiamo abbondantamente i 50.000 abitanti una RSA siamo della partita con la fondazione con cui studieremo bene le reali possibilità e ci puntiamo per il centro residenziale per Alzheimer e anche l'ospice pediatrico per cure palliative sarebbe nella città delle bambine e dei bambini una cosa simbolicamente ma anche praticamente bella bella per andare incontro a drammi familiari esigenze molto sentite soprattutto nel centro Italia ci sono medici paramedici persone che hanno esperienza che hanno soluzioni da proporre al governo regionale noi ci faremo araldi anche di queste istanze tecnicamente verificate perché ci rendiamo conto anche delle difficoltà della mancanza di personale della mancanza di finanziamenti se abbiamo assistito a una serie di dimissioni dei vertici amministrativi che non si possono giustificare solo ma doveva andare in pensione la dottoressa Storti forse sì doveva andare in pensione ma se gli si chiede con tagli di decine di milioni di euro di riformare di trovare lei i fondi perché ne hanno possibilità come dice il contratto di lavoro le persone dicono non il mio nome io arrivo fino qui ma siccome so fare i conti queste possibilità non ci sono e lascio il disturbo a qualcun altro ecco bisogna stare insieme in questa partita perché le alternative cioè le non soluzioni sono o non curarsi o ricorrere alla sanità privata quindi chi può ricorrere alla sanità privata e chi ha un reddito che glielo consente e qui comincia un distinguo molto serio a livello costituzionale noi vogliamo che anche bloccare le liste le prenotazioni è illegale quindi ci si misura adesso con una cosa importante dal governo nazionale che deve fare ingenti finanziamenti su questo settore noi siamo anche per usare il mess sanitario l'abbiamo detto più volte per quello che riguarda la nostra parte politica comprendiamo che altri hanno delle perplessità il discorso compriamo armi o sanità io sarei per la pace e comprare sanità ovviamente pubblica poi c'è una complessità di temi che va governata se non si investe nella sanità i problemi restano in capo a tutti Marchigiani 30 secondi per l'appello al voto bene andate a votare innanzitutto perché il voto è un esercizio di un diritto dovere importante lo dico a tutti giovani e meno giovani votate chi volete noi siamo una lista che si presenta con delle competenze con una passione io ringrazio tutti quelli che hanno aderito importante per stare sul pezzo di problemi che un'amministrazione come Fano può risolvere per aumentare l'orizzonte competitivo la qualità della vita della nostra città e dei nostri concittadini grazie allora ai nostri ospiti per essere intervenuti grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti